Ciao! In questo video vi voglio spiegare come leggere in pochi minuti correttamente l'etichetta dei cosmetici che vi trovate davanti al supermercato oppure in profumeria sui vari scaffali. Spero tanto di esservi utile, se lo sono lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Allora, prima di tutto partiamo dai simboli che ci sono sull'etichetta poi arriveremo all'inci che è un argomento un po' più complesso però partiamo prima dai simboli. Allora, possiamo trovare sulla nostra etichetta questo simbolo che è un barattolino aperto ed è il PAO. Questo barattolino aperto all'interno ha solitamente una cifra quindi magari 6, 12 e accanto alla cifra c'è la lettera M. Questo simbolo sta ad indicare che dal momento in cui andrete ad aprire il barattolino il prodotto si conserverà per tutto questo tempo. Ad esempio, se all'interno di questo simbolo c'è 6M vuol dire che da quando aprirete la crema o qualsiasi prodotto questo prodotto si conserverà per 6 mesi dal giorno dell'apertura. Potete trovare anche questa clessida sulla vostra etichetta e significa consumarsi preferibilmente entro il e ci sarà poi la data precisa. Poi potete trovare anche la lettera E questa lettera E accanto alla quantità di prodotto all'interno della confezione. Questa E ha il significato di circa ed indica che può esserci una piccolissima variazione del peso del prodotto rispetto a quello indicato accanto alla lettera E. Ovviamente poi ci sono indicate eventualmente le certificazioni del prodotto se è vegano, se è certificato bio, se è senza glutine e poi c'è indicato eventualmente se il prodotto è riciclabile o meno con questi simboli, con la doppia freccia oppure la tripla freccia. Ed ora parliamo di INCI. L'INCI è la nomenclatura utilizzata a livello internazionale per identificare gli ingredienti presenti all'interno di un prodotto cosmetico. Il primo fattore da considerare quando guardiamo l'elenco degli ingredienti all'interno di un prodotto è il loro ordine, perché non sono indicati in ordine casuale bensì gli ingredienti all'inizio dell'elenco sono quelli presenti in maggiore quantità mentre quelli alla fine dell'elenco sono quelli presenti in minore quantità. Per tutti gli ingredienti presenti in concentrazione minore all'1% non c'è più questa regola di indicarli proprio uno per uno man mano che sono sempre meno concentrati. Bensì tutti gli ingredienti presenti in quantità inferiore all'1% sono indicati in ordine sparso quindi magari l'ultimo ingrediente della lista non è detto che sia quello presente in minore quantità in assoluto però è sempre comunque inferiore all'1%. Tutte le sostanze di origine vegetale sono indicate con il nome della pianta in lingua latina ad esempio l'olio d'oliva è sempre indicato come olea europea il loro nome in latino è sempre seguito in inglese dal nome della parte della pianta impiegata come ad esempio seed per i semi se il prodotto viene estratto ad esempio dai semi oppure leaf dalle foglie, fruit successivamente c'è anche indicato il tipo di prodotto ottenuto quindi ad esempio nel caso dell'olio d'oliva viene indicato questo sempre in inglese, oil per indicare appunto che il prodotto finale utilizzato è l'olio mentre tutti i prodotti di derivazione chimica sono indicati esclusivamente in inglese non hanno nemmeno una parte del nome in latino per cercare di comprendere meglio l'inci e per capire un attimino se stiamo acquistando un prodotto con dei buoni ingredienti oppure no dobbiamo immaginare di suddividere in tre parti l'elenco degli ingredienti nell'ultima parte solitamente troverete conservanti, coloranti, profumi i profumi sono indicati solamente con questi nomi e molto probabilmente troverete solamente questo nome diciamo perché ogni profumazione è composta da molteplici sostanze sia di derivazione di sintesi che di derivazione naturale e quindi ogni profumazione che viene creata è composta in media dai 30 ai 50 tipi di fragranze differenti messe assieme quindi capite che diventa un problema scriverle tutte quante e questo è valido sia per le fragranze che sono completamente di derivazione naturale sia per le fragranze di sintesi vengono solitamente indicati solo gli ingredienti che possono magari essere più allergizzanti che sono un po' più a rischio diciamo ad esempio il limonene oppure altri ingredienti che fanno parte della profumazione quindi quelli vengono indicati sono gli unici mentre i coloranti sono indicati con la sigla CI seguita da un numerino e tutti i coloranti possono essere indicati nella lista in ordine sparso alla fine di tutta la lista quindi dopo tutti gli altri ingredienti in ogni caso noi non possiamo sapere le esatte percentuali di ogni ingrediente presente all'interno di un cosmetico sono tutte informazioni riservate alle case produttrici anche per una questione di sicurezza per evitare plagi, per evitare copie però diciamo che possiamo comunque capire un pochino qual è la loro concentrazione all'interno dell'inci semplicemente suddividendo in tre blocchi il primo blocco, il blocco superiore riguarda il 90% del prodotto il blocco centrale invece riguarda il 5-8% del prodotto mentre l'ultimo blocco, quello in fondo, il terzo rappresenta dall'1 al 3% del prodotto totale tranne ovviamente proprio gli ultimi 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 come vi dicevo prima perché rappresentano una quantità inferiore all'1% quindi in base a questo ragionamento possiamo anche orientarci in questo modo se voi andate a prendere l'inci di un cosmetico e vedete che le sostanze dichiarate come nocive o dannose sono nei primi due blocchi allora io vi sconsiglio di acquistare il prodotto come sostanza nociva io intendo quelle sostanze che ad esempio dal biodizionario sono indicate con il pallino rosso mentre se voi le trovate alla fine potete anche pensare che la loro concentrazione sia pari al 1%, 2%, 3% al massimo e quindi diciamo che la cosa è comunque accettabile perché la concentrazione è veramente minima rispetto a tutto il prodotto bene miei cari miei cari queste sono le informazioni che volevo darvi ecco per cominciare a parlare di etichette di inci e tutte queste cose nel prossimo video vi parlerò proprio degli ingredienti da evitare all'interno dei cosmetici voglio fare una serie di video che spero possano esservi utili in cui cerco di darvi più informazioni possibili per riuscire a selezionare in pochi secondi i prodotti migliori ecco quando vi trovate centinaia di prodotti sugli scaffali del supermercato della profumeria spero tanto di esservi stato utile se lo sono stata lasciatemi un pollice in su e se avete dubbi, domande o altre informazioni da lasciare scrivete tutto fra i commenti io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao!